Sono tre, quattro racconti, però quando ho iniziato a leggerli sono tornata indietro proprio quando ero bambina, quando ero ancora, vedevamo tutto con gli occhi dei bambini con la speranza, con il genitano e iniziare a leggere questo libro, e chiedo ovviamente, scusa che non sono riuscita a leggere un romano poi ti scriverò quando l'ho letto tutto è stato proprio come dire, un po' di tempo per me, per ripensare a quando ero piccolina ed è stata un'emozione veramente bella, in questo mondo in cui corriamo sempre per qualsiasi cosa uno di noi ed è stato proprio questa gioia di avere un po' di tempo per dire guarda, è come se mi fossi capultata a quando avevo cinque anni, quindi cinquantatre anni fa è veramente un grande dono questo libro grazie